Un programma presentato da Buonasera e ben ritrovati a Pianetta Alma, puntata numero 4 del settimanale di Fano TV dedicato al calcio E adesso ormai che si fa la storia di questo campionato di Serie D, tre giornate alla fine anche se ovviamente l'auspicio per l'Alma di Ventus Fano è che di partita ce ne sia almeno una quarta Quella che decreterebbe poi il futuro della squadra Granata attraverso i play out Del momento della partita appena vinta in particolare con i Roma City, di quella che attende i Granata Ora parleremo questa sera con Omar Manuelli, direttore tecnico dell'Alma di Ventus Fano Buonasera Buonasera e bentornato E Cedric Calombo, centrocampista dell'Alma di Ventus Fano Buonasera e benvenuto Buonasera Allora inquadriamo inizialmente quello che è successo domenica scorsa con il Roma City Partita vinta con merito dall'Alma che l'ha interpretata con una voglia, una motivazione diversa rispetto a quelle esibite dal Roma City Come possiamo vedere dalle immagini, partita comunque chiaramente indirizzata da questa prodezza assoluta di Gonzales Non la prima, un'esecuzione alla Pirlo con questa palla che scende, che diventa imprendibile, che riapprezziamo anche dal basso Prodezze, Omar, che si vedono raramente anche in campionati di categorie superiori Sì, Sergio ha un piede di altre categorie, insomma, chi ha quella qualità tecnica veramente ce ne sono pochi anche in altre categorie Poi è chiaro che il calcio purtroppo e per fortuna non è fatto solo di tecnica, se no non era qui a giocare con noi uno con queste qualità Probabilmente deve migliorare sotto altri aspetti perché il piano tecnico è sicuramente in un'altra categoria Cedric ha girato un sacco di squadre, quindi ha incrociato un'infinità di calciatori Non tanti hanno la qualità tecnica di Gonzales No, Gonzales ha veramente un piede della categoria superiore Da quando sono arrivato a novembre l'ho conosciuto ed è migliorato anche molto su altri aspetti, sull'aspetto caratteriale, sull'aspetto fisico E l'esperienza che sta vivendo a Fano, tra virgolette, lo sta consacrando, quindi sono contento per lui E spero che la Prodezza che ha fatto domenica non sia l'ultima e se ne regali anche domenica a Sora Sarebbe fondamentale, capocannoniere Gonzales della squadra Granata, grazie appunto soprattutto a punizioni e rigori Tutti trasformati con grande freddezza, sappiamo che il calcio, le partite di calcio spesso vengono decise da palle inattive E comunque avere in campo uno così, al di là dell'esecuzione vincente e diretta, fa sempre molto comodo Sì, dico questo che poi le scelte tecniche ovviamente le fa l'allenatore Non metto in dubbio le scelte che hanno fatto gli allenatori in passato o Manoni adesso, per carità Però è un giocatore che bisognerebbe averlo sempre in campo Perché può sempre determinare Proprio per questo motivo, perché magari a volte si estragna un po', magari non è nel vivo del gioco Oppure non mette in quell'ardore che serve, magari a volte nelle partite però da un calcio d'angolo, una punizione O un passaggio filtrante, insomma da una giocata tecnica può sempre nascere qualcosa e l'ha dimostrato Poi i rigori bisogna saper ribattere, insomma si vedono a tutti i livelli sbagliare i rigori L'attivo, li ricordiamo recentemente, ne ha trasformati due consecutivi nel giro di pochi minuti Quindi vuol dire che è freddezza e hai capacità balistiche di un certo livello È un calcio di un certo tipo Oltretutto nel caso di Gonzales ricordiamo che per due volte ha centrato la porta da metà campo Ora, è raro in una carriera di un calciatore che si segni un gol da metà campo, lui due nella stessa stagione C'è stata anche una terza occasione a Matese dove è stato bravo il portiere Che dire, non c'è altro da dire, quei colpi o li hai o non li hai, lui ne ha e ce l'ha dimostrato Però con il Roma City si è visto anche altro Una squadra certamente agevolata da questo gol che ha in qualche modo incanalato verso il binario più favorevole in match Però l'arma ci ha messo anche grande determinazione, grande cattiveria, grande concentrazione Perché ha concesso veramente poco ad una squadra che esibiva il capo cannoniere del giro Neanche altri elementi di provata esperienza Sì, hanno fatto la partita che dovevamo fare Il mister l'ha preparata bene, i ragazzi l'hanno preparata bene Sono scesi con la mentalità giusta Perché il Roma City si sapeva che era una squadra che sa palleggiare bene Ma non è la sua arma migliore, non è sicuramente il ritmo, l'aggressività E quindi se gli lasci palleggiare con massima serenità È chiaro che è una squadra che ha qualità tecnica Ha speso tanto, hanno investito tanto E quindi da quel punto di vista è una squadra che forse ha anche meno punti di quello che è il valore della squadra Si sapeva che era una partita di sacrificio L'abbiamo fatta Abbiamo avuto anche la palla del 2-0 con Padovani in una ripartenza Quindi era la partita da fare, era questa insomma L'unica cosa appunto che ho fatto anche ai ragazzi parlando anche col mister Era che negli ultimi minuti forse ci siamo abbassati troppo E questo non deve succedere E questo ha volito la creazione di qualche mischia Esatto, qualche mischia, qualche calcio d'angolo Esatto, qualche calcio d'angolo di troppo Che quello bisogna evitarle Perché come hai detto te a volte le partite si risolvono anche sui calci piazzati Quindi regalare un calcio d'angolo a volte determina un risultato Determinazione e voglia sono questi i requisiti per affrontare questo finale di stagione Sì, questo finale di stagione ha poco da dire C'è poco da pensare alla tattica, alla tecnica Devi dare in campo tutto quello che hai Perché finita Sora c'è subito avversario, non c'è tempo Non c'è tempo e noi abbiamo bisogno di punti Per affrontare questo finale di stagione Che ci può dare tanto, no? Perché si parla di play out Io vedo ancora la salvezza diretta Adesso? Sì, perché se fai 9 punti Puoi farcela Quindi diamo tutto e vediamo quello che raccoglieremo Il quadro dei risultati dell'ultimo turno E poi anche la classifica Con l'Alma che ha fatto un passo in avanti Comunque importante almeno verso i play out Approfittando anche del fatto che sia Vasto Girardi che Matese Hanno invece segnato il passo Lì in coda Il Sora, prossimo avversario Ha rifilato un 5-0 al Tivoli Che aveva fatto molto penare l'Alma Importante anche il successo del Termoli Sul Real Monterotondo Che come vediamo segna il confine Della zona salvezza Quota 35 L'Alma è ora a 6 lunghezze Quindi entro quel divario Che garantirebbe la disputa dei play out 3 punti di vantaggio sul Vasto Girardi 4 sul Matese Ce ne sono 2 da rimontare al Tivoli 5 a Riccione 6 al Monterotondo Fossombrone affiancato al Sora Sora che contro l'Alma Cercherà quel successo Che probabilmente le consentirebbe di ipotecare la salvezza Ma l'Alma non è che può far caso Più di tanto a chi incontra in questo momento Dove lo incontra e che condizione lo incontra Deve fare punti contro chiunque e dovunque Sì, sì, è chiaro La classifica si guarda Perché ovviamente è inutile negarlo Però adesso sono tre partite Che ti devi fare i punti Al di là con chi giochi E come giochi E da che parte giochi Insomma, quindi Io sono convinto che i ragazzi Sabato Partiamo domani Già saranno con la testa Concentrati Sulla partita e daranno il massimo Come spesso e volentieri hanno fatto Perché io credo che nessuno Quest'anno Possa imputare qualcosa A questi ragazzi Dal punto di vista dell'impegno E della volontà È vero che a volte Sì, c'è stata qualche partita Sicuramente meno riuscita Esatto Nel senso che se avevi Quella determinazione Che hai avuto sabato Domenico, scusa L'avevi per dire in casa Con l'Atletico Ascoli Probabilmente raccoglievi qualcosa in più Però calci così Non è che è matematica E quindi Tutte le partite sono uguali Diciamo che quando l'atteggiamento Non è quello ideale Poi è più facile che emergano i limiti I limiti, esatto Di natura tecnica O anche di esperienza Cedric Qual è l'atmosfera all'interno Allo spogliatoio Alla vigilia di questa partita Delle due che seguiranno Questa vittoria su Roma City Ha in qualche modo Riattivato all'entusiasmo La voglia di credere In questo obiettivo La squadra è determinata E serena Perché Io comunque Da quando mi sono infortunato Li seguo tutti i giorni Gli allenamenti Si allena sempre A massima intensità Da tutto Secondo me ha raccolto meno Di quello che meritava Però È tranquilla Concentrata E devo dire veramente Devo dare merito ai ragazzi Perché La nostra è una squadra È veramente giovane E Trovarsi in queste situazioni E Reagire in questa maniera Non è da tutti Cedric Sta vivendo lo spogliatoio Nonostante un infortunio Disgraziatissimo In occasione della partita Con il Campobasso Abbia di fatto Troncato la sua stagione Anzi Tempo Intervento chirurgico Tempi di recupero Chiaramente Che andranno valutati Strada facendo Qual è la situazione Al momento Come hai vissuto Quel momento E come stai Interpretando Anche questa fase Di iniziare il recupero Mi è dispiaciuto tanto Mi è dispiaciuto tanto E Cosa devo pensare Ti era successo In passato Qualcosa di Così grave No È il mio primo infortunio Grave Però Grazie Amici La famiglia Ma soprattutto Alla squadra Che la sto vivendo Tutti i giorni È Già passato un mese Già dall'operazione È passato un mese Ho tolto il tutore Adesso Inizio il periodo Rehabitativo Quindi Ricordiamo la visione Al tendine Achille Che comporta Naturalmente Dei tempi Tecnici Tu ti sei fissato Un obiettivo Il mio obiettivo È Settembre Riprendere A lavorare con il gruppo In quel periodo lì O comunque Rientrare nell'orbita Del gruppo Sì Perché poi Sedic Notizia di questi giorni Ha comunque rinnovato L'accordo con l'Alma Sarà protagonista In maglia granata Anche in futuro È così Sì Sì Abbiamo trovato L'accordo Con la società Io In primis Sono contentissimo Di continuare Questa esperienza Mai a granata Che è anche la mia città Ci tengo a far bene Il mio obiettivo È riportare Il Fano In categorie Del professionismo In Serie C Perché secondo me Il Fano È una squadra Che merita il professionismo Che tu ci venga a fare bene Lo dimostra il fatto Che sei arrivato In una situazione Di classifica Che era già Piuttosto precaria Che poi ti sia messo a disposizione Totale della squadra In pratica Ti abbiamo visto fare il centrale difensivo E anche il centroavanti Tu che nasci Laterale Destra Tutto campo E che comunque In carriera Sì Anche nell'esperienza all'estero Hai fatto qualche virata Verso la prima linea Però fondamentalmente Ti trovi meglio In quel ruolo Sì Ho conosciuto diversi allenatori Che M'hanno posizionato In diverse parti del campo E mi ha aiutato a crescere Anche se magari Per esempio A Salerno Ho giocato meno Però Sono cresciuto Anche giocando con Giocatori Importanti Ti aiuta a crescere E è nata Questa mia duttilità Ripercorriamo un attimo La tua carriera Naci nel giovanile Del Sant'Orso È così Fanella Fanella Scusami Poi Il trasferimento a Lecce Sì Poi una serie di altre squadre Non facciamo l'elenco Perché altrimenti Arriveremo a notte fonda Forse Il treno Per il grande calcio A Salerno Hai qualche rimpianto A quel riguardo Non hai sfruttato al meglio Quelle opportunità Oppure Le cose sono andate In una certa maniera Inutile Farsi venire Il sangue cattivo Rimpianti non ne ho Rimpianti non ne ho È andata così Ma nulla è perduto C'è tempo di recuperare Lo dice la storia del calcio Per esempio Milito A 30 anni è arrivato A quei livelli lì Quindi c'è tempo per tutto Non bisogna mai smettere di sognare Di crederci Io è quello che continuo a fare Anche scelte piuttosto singolari Di recente Prima la Bulgaria Poi addirittura la Finlandia Come ti sei trovato In questa realtà? Tramite degli allenatori Che ho avuto qua in Italia Mi hanno chiamato E ho pensato Che un'esperienza all'estero Mi sarebbe Volevo farla Ero curioso È stata divertente Mi è piaciuta Ho conosciuto Altri modi di giocare Altri stili Altri modi di vivere Sì Soprattutto quello Mi stanno aiutando a crescere Sei tornato a Fano Dove sei diventato Tra l'altro subito Il beniamino Dei piccoli tifosi Granata E di coloro Che frequentano Il vivaio Dell'Alma di Mento Sfano Mi sono affezionato Anch'io Ai ragazzi Mi piace Scherzare Ridere con i ragazzi Perché mi piace La loro inocenza La loro spensieratezza E mi sento ancora Anch'io bambino Come loro Quindi mi trovo benissimo Torniamo All'attualità del campionato Dicevamo Della trasferta di Sora Che inseriamo Appunto Nel quadro Delle partite Della prossimo turno Sora Che è squadra Che viene Da questa larghissima Vittoria sul Tivoli In precedenza però Aveva inanellato Due sconfitte consecutive Prima ancora Ha battuto però L'Aquila Che ultimamente Ha fatto risultato Contro chiunque Squadra Difficile da decifrare Omar Sì Una squadra Comunque Che è solida Una squadra Che Ho visto Ha subito C'è perfetto equilibrio Tra gol segno Non so se è zero Addirittura La differenza Rieti Ha fatto 34 gol Subiti 35 Viceversa Credo una cosa del genere Quindi Ho visto che Un attacco Usa Quasi tutto Il pacchetto Under Quindi C'è un attacco Giovane Però in mezzo Al campo E dietro E' esperta E' solida E quindi L'ultima partita Ha giocato Un 3-5-2 Quindi una squadra Costruita Per raggiungere L'obiettivo Speriamo Che gli facciano Lo sgambetto Noi Domenica Insomma Ritornando a Sedri Che la riconferma Che la società Ha voluto dare A Sedri Credo che sia Un premio Al giocatore E al ragazzo Che è eccezionale E' un premio Anche Per farlo star tranquillo Dopo l'infortunio Che ha avuto E anche Un segnale Che Fano Vuol ripartire Da gente fanese Gente genuina Gente capace Della zona E quindi Riconfermare Un giocatore Infortunato In questo periodo E' anche un bel segnale Tornando alla partita Di Sora Sora che ha fatto Due terzi dei punti In casa propria In casa Anche l'Alma I suoi punti Alla fine Li ha fatti Quelli che mancano All'appello Sono i punti in trasferta Appena otto Frutto di altrettanti pareggi Nessuna vittoria Una volta rimossa Quella iniziale di Fossombrone Perché è stata cancellata Tavolino C'è comunque Una difficoltà Ad esprimersi in trasferta Così come avviene In casa A Sedri Giocare in trasferta E' sempre difficile Perché non sai mai Che ambiente Ti ritrovi Evidentemente Qualcosa abbiamo sbagliato Se non abbiamo mai ottenuto Una vittoria in trasferta Però adesso Coltello tra i denti Andiamo a fare Questo sgambetto Al Sora Anche perché Due delle ultime tre partite Sono fuori casa Quindi Se occorre fare punti Necessariamente Bisogna rastrellarli Anche lontano dal Mascini Anche se andiamo a analizzare bene Insomma Ne cito solo due Monterotondo E Tivoli Insomma Le abbiamo pareggiate Al novantasetteso Erano in teoria Vinte entrambe Addirittura A Monterotondo Si vinceva Due a zero Situazioni che andavano Sicuramente gestite meglio In cui forse Quelle gambe In esperienza Ha fatto la differenza Quando una squadra giovane Giochi fuori casa Ambienti magari Un po' più ostili È chiaro che il giovane Va un po' più in difficoltà Nella gestione Nella gestire anche Le emozioni Quindi E' chiaro che un po' più E quindi Bisogna essere attenti E più bravi In quelle situazioni lì Perché Tra Fossombrone E questi due pareggi Al novantasettesimo Parliamo di nove punti Che E volevano dire A questo punto La salvezza della squadra Quindi L'equilibrio È sottile Insomma Le immagini Salienti Della gara Fra Sora e Tivoli Gara anomala Perché Noi vediamo soltanto I gol del Sora Ma in realtà Il Tivoli Ha attaccato a lungo Di opportunità Probabilmente Ne ha costruite anche di più Solo che il Sora È stato chirurgico Nel colpire Si giocherà In un ambiente particolare Perché i tifosi Del Sora Si asterranno Dall'entrare allo stadio Per una serie di diffide Che sono state Combinate Incontreranno anche La solidità Di tifosi Granata Che saranno comunque presenti Come sempre Cedric Tifosi al seguito Questo non accade Ovunque Soprattutto in Serie D Sì I tifosi Ci stanno Ci seguono Ci sostengono Ci dimostrano La loro vicinanza Anche Incontrandoli al mercato Ed è un segnale Di coesione In campo Scendiamo in 12 Alla fine Ed è molto importante Soprattutto in trasferta Omar Andiamo a vedere Quali sono le altre partite Che attendono L'alma di qui Alla fine della stagione Trasferta da Vezzano Contro una squadra Che ha rialzato la testa Con la Vigor Senigallia Che è ancora in quota playoff Poi l'ultima Con Real Monterotondo Che prevedibilmente Sarà ancora Impegnato nella lotta Per non retrocedere Insomma Squadre che hanno Comunque delle motivazioni Anche se le più forti Probabilmente le esibiranno Come l'alma Anche il Sora E il Real Monterotondo Piuttosto che un Avezzano Che sì È coinvolto in questa lotta Per i playoff Ma sappiamo che i playoff In Serie D Non sono questa mulla Che magari Rappresentano in Serie C O in altri campionati Sì sicuramente Se si parla di stimoli A regalare Non regala niente A nessuno Per l'esperienza Ho visto che Giustamente Insomma Le partite le giocano Tutti Tranquillamente È chiaro Che se parliamo Di stimoli L'Avezzano Sulle tre Dovrebbe avere Meno Di tutti Però Però la Cressivia Dice che però È più attrezzato Tecnicamente È chiaro Quindi dal lato Magari Avrà meno ardore agonistico Ma c'ha più qualità Quindi saranno Tutte e tre partite Difficili Come diceva Cedric Da una parte Il fatto di avere Due scontri diretti Su tre I scontri diretti Valgono doppio Quindi Se veramente Riusciamo A fare risultato In tutte le partite È chiaro Che la salvezza Della squadra O tramite Play-out O diretta Che sarebbe Un miracolo Sportivo È ancora Tutta in ballo Abbiamo parlato Dei ragazzi Del Vivaio Granata Che hanno individuato In Cedric Un idolo Tu hai mantenuto Il ruolo di responsabile Del settore giovanile A questo riguardo C'è una partita Molto importante Della Juniors In questo fine settimana Contro l'Avezzano Che può valere i play-off Velocemente Qualche secondo Per tracciare Un quadro Dell'attività Come si è sviluppata In questi mesi Ma io sono molto 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 contento Nel senso che Siamo partiti Sia con l'Accademia Granata Che come Alma Con qualche difficoltà Invece nel proseguo Abbiamo fatto Un'annata buona Con tutte le categorie Al di là Dei risultati Alcune squadre Sono primi Alcune magari Ma quello conta poco Anche la stessa Juniors Che è composta Da tutti i 2006 E qualche 2007 Quindi concediamo Per fare un esempio Domenica abbiamo giocato Lo scontro diretto Con l'Atletico A Sabato Con l'Atletico Ascoli Che è una squadra Che lotta nei play-off Aveva in campo O 5 O barra 6 2005 Insomma È chiaro che Un anno di differenza Quest'età È significativa È una scelta questa Che il Fano Ha sviluppato negli anni Sempre ribadendola Sì Io La condivido Anzi Purtroppo C'era questa congruenza Tra Alma e Accademia Con i 2007 Che non li puoi Ovviamente spostare Se no io durante l'anno Avrei già inserito Dei 2007 Perché secondo me Chi ha qualità Sia fisiche che tecniche Se riesce a anticiparle Le annate Hai dei benefici Magari non nel risultato Ma sicuramente Nella costrazione Del giocatore Noi siamo riusciti A fare un po' Entrambe le cose Perché la squadra Ti ho detto Lotta ancora Per un posto Ai play-off Nonostante tutto Abbiamo tutti 2006-2007 E con dei Profili importanti Anche in ottica Prima squadra Per il prossimo anno Grazie a Don Marmanuelli Direttore tecnico Della Meio in Tussano Grazie a te Cedric Calombo Centrocampista Per il momento In infermeria Della squadra Granata Grazie a tutti voi Per averci seguito Ancora una volta Vi aspettiamo La settimana prossima